Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Dobbiamo aggiornare la statistica degli incidenti dei velocipiti delle biciclette dettata dall'assessore Maurizio Verne, definito il Toninelli Terramano dal consigliere comunale Franco Fracassa. Il gioco dell'assurdo, in no sense, ha voluto che questa mattina, proprio sulla striscia rossa, una bicicletta e il ciclista è stato praticamente investito. Guardate anche i vetri a terra e quindi cosa dire? Nulla di più, nulla di meno. Secondo il codice della strada, diciamo studiato dal consigliere Franco Fracassa, questa striscia rossa non può insistere su di una rotonda. Secondo l'assessore Verne, sì, queste corsie, anzi nemmeno piste ciclabili, e corsie promiscue possono stare qui ben disegnate. La cronaca, quella che a noi interessa, è appunto questa bicicletta, il ciclista investito a Piazza Garibaldi a Teramo.